Ciao, benvenuti su Gold Unicorn Artarot. Ciao carissimi e carissime. Allora, la domanda che mi ha chiamato oggi è qualcuno vuole chiamarti adesso perché ti pensa troppo. Quindi andiamo un po' a vedere che cosa ci vogliono dire. Qui io ho messo, come sempre, diversi mazzi e vediamo quelli che mi chiameranno. Allora, mi sento di incominciare con questo mazzo. Allora, vediamo un po'. Beh, effettivamente c'è del movimento energetico verso di te, quindi qualcosa che sembrava fermo è un po' in lotta e ora si sta muovendo. Beh, qui abbiamo un bellissimo re di coppe, quindi chi è che vuole chiamarti adesso perché ti pensa troppo? Un re di coppe in movimento che ha superato un po' i propri ostacoli interiori comunque e vuole proprio provenire da te. Quindi tu sei un po' più distaccata almeno in questa, diciamo, in questa fase. Allora, abbiamo quindi questa persona che viene verso di te, evidentemente ti pensa, così come sei venuto. Allora, vediamo un po' qualche caratteristica di questa persona. Allora, è una persona che senza di te, indubbiamente, non sta bene, qui si vede chiaramente. Però quasi quasi aveva bisogno di provare questa sofferenza, questa persona, perché è come se dicesse, se soffro veramente allora capisco che tu sei importante. E comunque lui si sente molto affine anche a livello proprio animico, cioè c'è qualcosa di molto profondo che vi lega. Allora, mi stanno chiamando queste carte. Passiamo dalle carte piccole, piccole, alle carte grandi, grandi. E allora, vediamo, sento che questa persona, adesso poi ti dirò strada facendo, altre cose, altre caratteristiche, però intanto vedo che vuole venire verso di te, che sente proprio un legame fortissimo. Però, secondo me, non l'ha sempre sentito questo legame. In certi momenti quasi si era un po' distaccata. Adesso è come se si fosse risvegliato il suo cuore. Adesso è come se ti volessi urlare, ti volessi proprio dire, guarda, adesso sì, adesso sì. Perché, secondo me, prima non era in contatto con le sue emozioni, col suo cuore, o almeno non così profondamente come adesso. Quindi, secondo me, qualcosa, la sua anima lo ha chiamato, come abbiamo visto prima, e quando ha capito, adesso lui vuole proprio urlarti questo sentimento che ha, vorrebbe vederti in un posto tranquillo, il giardino dei sogni, il giardino rappresenta anche l'armonia, il voler stare vicino, sorridere, scherzare uno con l'altro. Queste sono tutte le sensazioni che gli sorgono da quando ha smesso di soffrire, diciamo. Quindi, questo conflitto evidente, conflitto con le emozioni, conflitto per non lasciarsi andare alle emozioni, era necessario, era necessario al percorso della sua anima. E fatto sta che adesso desidera stare in questo giardino. Un giardino rappresenta anche il potenziale della vostra storia d'amore, rappresenta un cammino qui, almeno come è rappresentato, no? Un giardino dove c'è al centro un ruscello, no? Che ti porta poi a una strada specifica o a un monto, una montagna, una costruttività. E quindi questa persona, adesso andiamo a prenderne ancora una, è in questa fase e tu sei un po' la sua musica. Oppure può anche voler dire che ascolta della musica e riesce a sognarti molto di più, molto più profondamente. Comunque, queste tre carte, tutte insieme, quindi soprattutto il giardino, la musica, ma comunque anche l'urlare. Una persona che ti vuole urlare che tu sei la persona che vuole, sei la sua musica, sei il suo giardino, sei proprio il posto dove può stare, vuole stare, perché sta bene con se stesso. Andiamo un po' a vedere di più. Allora, vuole chiamarti, quindi abbiamo visto questa persona e lo vediamo perché ti sogna, quindi vuole chiamarti, ti sogna. È stato male, diciamo, però ti sogna tanto. Questa è una persona molto notturna in questa fase della sua vita e tu sei proprio l'amore che vuole. Quindi tu sei venuta qui come regina di pentacoli, quindi lui ti vede come una donna piuttosto con i piedi per terra, pratica, quindi sa che non può arrivare solo con i suoi sogni in mano, che ti deve anche dimostrare cose pratiche. Però qui si vede che dentro il suo cuore voi due siete proprio, siete sempre stati un po' fatti per stare insieme, semplicemente però qualcosa vi ha tenuto lontani, fino adesso qualcosa vi ha tenuto lontani. Vediamo un po', visto che questa persona aveva il conflitto di non lasciarsi andare all'amore, vediamo un po', vediamo un po' tu come ti vivi adesso questa persona in questo periodo. Beh, in questo periodo tu stai pensando proprio in qualche modo io ho sempre creduto al tuo amore ma ti voglio educare. Ti voglio educare perché questa è proprio carta rappresentativa dell'educazione. Voglio educarti all'amore, voglio educarti a comportarti in un certo modo. Evidentemente questa persona, secondo voi, voi che guardate, ha avuto una certa mancanza nel comportamento. Quindi voi non siete proprio super serene in questo momento. Magari forse avete aspettato troppo, in certi momenti avete pensato di aver aspettato in vano, però la cosa che comunque sentite entrambi è questo legame profondo al di là di quello che accade. Ecco, vediamo un po' qualche altra caratteristica di questa persona. Beh, questa è una persona comunque che prima, forse perché aveva poca emotività, abbiamo visto che questa emotività gli è venuta più adesso, prima tendeva un po' a voler comandare, diciamo, no, perché aveva meno emotività e quindi tendeva, ma non comandare nel senso cattivo del termine, gli veniva istintivo. Probabilmente questa magari è una persona che copre, ricopre anche ruoli importanti nella vita. Questo era per darvi più caratteristiche su questa persona. Ecco, una persona che aveva tante prigioni e adesso non ce li ha più queste prigioni o comunque sono meno incisive, meno pesanti, perché, come abbiamo visto, l'amore di voi è diventato più forte. Allora, vediamo un po' che cosa vi vorrebbe dire questa persona. Cosa vi vorrebbe dire in questo momento? Vedete come sono sincroniche. Dialogo dal cuore aperto. Vorrebbe proprio dirvi che prima vuoi il suo lavoro, quindi potrebbe essere questo senso un po' di dominio anche nella vita lavorativa, non necessariamente con voi, comunque una personalità audace, una personalità forte. Con voi adesso ha proprio aperto il cuore. È come se lui, che prima veniva all'urlare, se vi ricordate, dicesse io adesso voglio parlare con te perché parlandoti col cuore aperto io stesso troverò la pace, la liberazione, la chiarezza. E a quel punto tu, che sei un pochino diffidente, come abbiamo visto, tu gli vuoi insegnare qualcosa, gli vuoi insegnare come dire a stare in relazione in un modo più armonico, e questa persona con questo dialogo dal cuore aperto ti vuole dire guarda che adesso tutto è diverso perché si mette un po' secondo me anche nelle tue mani, in questo modo. Tu forse sei più avezza alle emozioni, quindi non è che ti sei mai spaventata delle forti emozioni che ci sono sempre state fra di voi, ma qui abbiamo una persona piuttosto inquadrata, una persona istituzionale, una persona che aveva comunque dei limiti che facevano parte della sua vita, della sua educazione, ecco. Quindi vediamo ancora che cosa ti vorrebbe dire, visto che ti vuole chiamare perché ti pensa così tanto e abbiamo visto e sviluppato il perché. vediamo ancora cosa ti vuole dire. Beh, qui ti vuole parlare anche dei suoi difetti, naturalmente il lato oscuro sono le cose forse che non ti ha mai detto, ma tutti, voglio dire, prima o poi dovranno incontrare questo lato oscuro, fare un grande lavoro sul proprio ego, incontrare questo lato oscuro. Secondo me qui si vedeva già dall'appeso che lui aveva incontrato questo lato oscuro, tant'è vero che ha aperto il cuore, vuole il dialogo aperto, però ti vuole parlare dei processi che ha avuto, perché ora lui non vuole più vivere da questo punto di vista e secondo me è giusto che ci sarà, visto che tu lo vuoi educare, ci sarà un dialogo da entrambe le parti, tutte e due andrete molto in profondità. Vediamo un po' quindi a livello pratico poi questa persona, quando ti ha raccontato tutto questo, che ti vuole dire, si vuole aprire, abbiamo visto, a livello pratico poi cosa fa? Perché le parole vanno bene se sono seguite dai fatti. Quindi, beh no, qui le intenzioni di fare delle cose pratiche ce l'ha, eh. Adesso è nella fase che deve assolutamente, come dire, vedere, come dire, una strada. Qui vediamo che vola in alto per guardare qual è la vostra strada, la strada migliore per voi due, per se stesso anche. Quindi adesso è nella fase di costruzione, come una persona che per costruire una casa ha bisogno di un progettista, di un architetto e comincia a fare, è in questa fase qui adesso, eh. Quindi però sicuramente vuole costruire proprio con te, eh. Vuole costruire con te, e quindi mi viene da dire, sii felice, perché qui tu sei con le ali sopra un albero meraviglioso, che comunque, anche se può sembrare un albero spoglio, non lo è di fatto, perché qui si capisce che chi ha la creatività come te, vabbè, chiaramente queste sono carte oniriche, scaturisce da se stessa la fioritura, no? Comunque questa è una bellissima carta che ti dice che questa persona ha tutte le intenzioni di riconoscere il tuo valore, mi viene da dire qualcosa che non è solo esteriore, il tuo valore non è neanche solo interiore per se stesso, il tuo valore è qualcosa che tu hai di particolarmente speciale, no? Questa immagine ti ritrae molto bene come appunto una persona dalle cui mani escono dei petali, mi viene da dire, e che illumina tutto ciò che c'è intorno a te, quindi mi viene da dire profuma tutto ciò che c'è intorno a te, quindi mi viene da dire che tu sei particolarmente un po' unica per questa persona, è come se questa persona ti volesse dire, non ho mai incontrato delle persone particolari e speciali come te, tu vai a toccare dei miei lati anche ombra come abbiamo visto, ma ne vale la pena, vale la pena stare con te, vale la pena continuare con te, perché secondo me appunto non solo ti sente dentro questa persona, ma ritiene che tu hai veramente tanto da insegnare a questa persona, tanto da insegnare anche un po' giocosamente, perché non è che sei sempre seria, tu lo vuoi educare ma in modo amorevole, voglio educare come dire una persona che non si è mai lasciata andare all'amore, oggi come oggi voglio educarla a lasciarla andare all'amore, ecco quindi secondo me questo è un po' il tutto che vi vogliono dire queste carte, io ora voglio anche prendere per voi comunque, per voi due proprio diciamo come potenziale coppia, voglio prendere per voi due delle carte sullo spirito degli animali, noi stessi siamo degli animali, quindi il nostro spirito, il vostro spirito qui può avere, da come abbiamo visto, delle potenzialità reali, ma è bello proprio il tipo di riconoscenza e come ti riconosce questa persona dentro, molto particolare, molto unica, molto speciale, quindi vediamo un po' che cosa ti consigliano, ecco io chiederei che cosa ti consigliano di fare, questi oracoli, lo spirito degli animali, cosa ti consigliano del fare, e qui ti dicono che per stare con una persona così, abbiamo capito dal carattere che ha, dalle difficoltà che ha avuto a lasciarsi andare, di essere coraggiosa e piena di audacia, o coraggiosa e piena di audacia, lo spirito del tasso, no? Che però corrisponde anche a un numero quattro, quindi la materia, la costruttività, come dire, certo non sarà un percorso facile stare vicino con questa persona, però potrai ottenere dei buoni risultati, perché secondo me questa persona, a modo suo, da come mi parlano queste carte, a modo suo davvero ti vede, ti venera, ecco mi viene da dire, in un certo senso, non ha mai incontrato una persona come te, quindi secondo me ne vale la pena, e quindi vedi, qui ti dice che se tu ti lasci andare, nonostante le difficoltà, con questa persona avrai dei dolci risultati, lo spirito dell'ape, noi sappiamo che l'ape è molto costruttiva, quindi i dolci risultati ti attendono, no? Quindi stai tranquilla che avrai ciò che ti meriti in sostanza. Invece voglio vedere, per voi due, proprio per voi due insieme, che vibrazioni, che spirito, cosa vi vuole dire lo spirito, per voi due insieme, questo erano per te, e adesso voglio dire per voi due insieme. Lo spirito del topo vi dice di occuparvi delle piccole cose, e in effetti un po' tutta la stesa si riferisce a tante piccole cose, tanti aspetti, tante sfaccettature del suo carattere, del vostro, occuparsi delle piccole cose significa anche dare un fiore, fare una carezza, fare un sorriso, queste sono le piccole cose, no? Non è che bisogna sempre fare delle grandi cose per dimostrare il proprio sentimento o per andare avanti in una strada d'amore, eh? Vediamo. E poi, lo spirito della vespa, prima abbiamo avuto l'ape costruttiva, ti dice, è chiaro che non potrà sempre essere tutto rosa e fiori, perché a volte la vita fa male, ma l'importante è che ne valga veramente la pena, perché secondo me, da quello che sento, questa persona tirerà fuori da te della grande magia. è come se tu avessi un talento nascosto che potrebbe essere non necessariamente artistico, potrebbe essere di qualsiasi cosa e questa persona abbia la forza e la capacità di tirartelo fuori al meglio. Questa persona forse prima non ti ha dato quello che tu volevi, ma oggi come oggi questa persona saprà tirare fuori da te il meglio di te stessa, la tua versione migliore di te. Quindi, carissime e carissime, io vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci a presto. Ciao a tutti!